Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. La nostra attenzione si focalizza su un episodio che ha catturato l'interesse generale, il mistero che avvolge la scomparsa e il macabro ritrovamento di Liliana Resinovich. Questa donna di 63 anni è sparita misteriosamente il 14 dicembre 2021 dalla sua residenza situata in via Verrocchio, a Trieste. In un tragico epilogo, il suo corpo è stato scoperto il 5 gennaio 2022, nei pressi della sua abitazione, precisamente nel parco di San Giovanni. La scena del ritrovamento era inquietante, il corpo di Liliana era avvolto in due grandi sacchi per rifiuti, posizionati uno ai piedi e l'altro sulla testa, con in aggiunta due sacchetti di plastica che le celava il viso. Un personaggio chiave in questa storia è Claudio Sterpin, che si definisce l'amante di Liliana. Sterpin è stato intervistato di recente nel programma televisivo E Mattino 5, trasmesso su Canale 5 il 23 gennaio. Durante questa intervista, ha rivelato alcuni aspetti controversi e ha messo in dubbio la veridicità dell'alibi di Sebastiano Vicentin, un altro individuo coinvolto nel caso. Sterpin contesta le affermazioni di Vicentin, il quale sostiene di essere stato in una pescheria la mattina seguente la scomparsa di Liliana. Invece, Sterpin propone una versione differente, suggerendo che Liliana potrebbe essere stata immobilizzata e tenuta in un luogo freddo, portando alla sua morte per ipotermia. Sterpin va oltre, ipotizzando che la scena potrebbe essere stata inscenata per simulare un suicidio. Queste affermazioni aggiungono ulteriori strati di mistero e complessità a un caso già di per sé drammatico e intricato.